Buongiorno Marco, saputo qualcosa in più? Hanno fatto il controllo, le lastre vanno bene, il callo è migliorato sensibilmente, mi hanno levato una stampella e ci rivediamo fra 25 giorni per vedere come va. Tu come ti senti? Sì, mi sto come quando sono entrato, un po' meglio perché so come va e niente di più. Marco, dopo quattro mesi e mezzo ti hanno tolto il ferro, come stai? Bene, c'era un po' di voglia di toglierlo perché ovviamente mi sentivo un po' imprigionato, non potevo fare quasi niente. Adesso aspettavo questo giorno, siamo riusciti a toglierlo, tra l'altro anche senza anestesia, quindi già un qualche cosa di positivo perché meno anestesia si fa, non è meglio è. E poi niente, adesso farò due settimane abbondanti con un tipo un parastinchi per proteggere ancora l'osso, perché in questo momento è il momento più delicato di tutta la fase, perché ovviamente non essendoci più il tutore che carica e che protegge l'osso, l'osso viene totalmente sollecitato, quindi c'è il rischio di qualche complicazione, quindi bisogna ritornare con le stampelle per ancora due settimane e cercare di fare molta attenzione in questa fase. Marco, hai tantissimi tifosi che aspettano notizie da te, perché molte volte non si fidano di noi giornalisti, dai loro un appuntamento, di loro quando è che potrete rivedervi? A me piacerebbe, non solo per i tifosi, ma anche un po' per me, riuscire a darmi una data, perché sarebbe molto stimolante. Purtroppo né io né nessuno in questo momento sa quando potrò essere competitivo. Ancora devo stare attento che non ci siano complicazioni, quindi in questo momento non si può neanche affrettare i tempi, non puoi dire da domani mi alleno e vado in bicicletta, cerco di recuperare tempo perché si correrebbero dei rischi inutili. Quindi aspettiamo il giorno in cui tutto sarà sistemato, probabilmente fra 20 giorni e poi comincerò la mia preparazione e speriamo di tornare il più velocemente possibile, anche se credo che sarà un qualche cosa di difficile, di lungo.